è successo finalmente dopo un bel po di tempo dopo qualche anno che ci pensavo ma parecchi anche imprevisti nel frattempo sono riuscito finalmente a cambiare l'assicurazione dell'auto e ne sono felicissimo però ovviamente questo è un argomento che toccherà un po tutti perché comunque tutti abbiamo una macchina e tutti o comunque molti di noi giustamente hanno un'assicurazione e spesso e volentieri i problemi ci sono con le nostre assicurazioni e quindi tendiamo a insomma non essere diciamo molto felici di questa cosa perché magari paghiamo troppo o non abbiamo servizi e quindi in questo video parleremo di della mia personale esperienza e poi di assicurazioni per capire più o meno di dare qualche consiglio molto generale e capire un po come sbattere la testa per cui inizierei da quella che è la mia personale storia io prima di quest'anno ho sempre avuto una sola assicurazione due auto ma una sola assicurazione non due contemporaneamente prima una e poi l'altra però semplicemente o tra virgolette convertito l'assicurazione da una targa all'altra pagando tra parentesi comunque ho sempre avuto una sola assicurazione e quindi una volta c'era la diceria anche vera a quanto pare che se tu stavi tanti anni con un'assicurazione soprattutto se avevi una classe di merito abbastanza bassa nel mio caso io ho una prima classe presa con la versani parecchio parecchio tempo fa quindi non nuova di adesso ma di parecchi anni fa ok benissimo quindi una prima classe effettiva ormai a tutti gli effetti bene nonostante ciò questo fenomeno non si è verificato non si è neanche verificato il fenomeno che la polizza restasse praticamente sempre uguale identica o pochi euro più o pochi euro i meno bensì però si è verificato un altro fenomeno ovvero che la mia polizza assicurante assicurativa aumentava sempre a dismisura di anno in anno sempre cioè ad ogni scadenza incidenti fatti zero problemi causati zero magari multe prese anche zero ma nonostante ciò 30 40 50 70 eccetera eccetera per intenderci io con questa mia auto che ho attualmente il classe a ok è un 2000 di cilindrata quello che vuoi però attualmente con il classe a l'ultimo anno che ho avuto questa assicurazione quindi fino a pochi giorni fa ok quindi l'anno scorso ho pagato quasi mille euro prima classe è quest'anno avrei dovuto pagare di più ovviamente quindi quei 40 50 60 euro in più non lo so comunque più di mille euro sicuramente ora qualcuno giustamente si chiederà il dirà ma tu cosa avevi in questa assicurazione perché ovviamente guardare il prezzo è una cosa relativa cioè tu guardi il prezzo ok ma poi che cosa hai dentro quel prezzo perché paghi tanto magari hai dei servizi in più insomma qualcosa eccetera invece no basti pensare che io avevo i massimali al minimo praticamente sindacale e per giunta praticamente non ci avevo nessun servizio aggiuntivo tranne che il carro attrezzi praticamente se la macchina si si guasta comunque bisogno di qualcosa ma ormai quello bene o male ce l'hanno un po tutte le assicurazioni il satellite quindi tu puoi vedere la macchina dall'applicazione dove no poche parole ok quello è o comunque ti può aiutare in caso di incidente di sinistro per capire più o meno qual è la dinamica della cosa ma quello in realtà è una cosa che serve a ridurre l'assicurazione non a farlo aumentare ok e poi infine la polizza cristalli più l'rca ovviamente di base punto ovviamente in tutto ciò una cosa che mi ha sempre dato fastidio che non fosse contemplata nella mia assicurazione sono i danni al conducente che sarei io perché perché se una persona mi sale addosso ok e quindi si fa male mi magari mi faccio male anche io eccetera eccetera i danni magari all'altra persona vengono pagati ma a me no nonostante io ti stia pagando profumatamente questa assicurazione il che onestamente non va assolutamente bene ed è bene che in realtà il problema non è il prezzo ma il rapporto qualità prezzo cioè tu paghi x ma praticamente ai poco rispetto a quello che dovresti avere cioè non hai il furto incendio non hai nulla praticamente proprio niente tranne tra virgolette quello che è fondamentale più ok l'assistenza stradale e basta neanche i danni al conducente che secondo me è una cosa fondamentale ok e allora sono andato diciamo un po a capire a cercare di capire come mai questa assicurazione aumentasse anno dopo anno nonostante io non abbia fatto nessun incidente ok è praticamente andando a vedere ad esempio anche su tramite conoscenti amici eccetera eccetera ma anche a vedere tramite trans pilot quindi cercando un po ovunque praticamente questo problema ci hanno tutti gli assicurati con questa assicurazione tutti lamentano la stessa identica cosa cioè la polizza aumenta sempre di più non è che aumenta quest'anno e poi l'anno prossimo forse sì forse no no aumenta sempre di più quindi finché tu non dirai ok basta adesso me ne vado loro ti aumenteranno sempre il premio assicurativo sempre di più cioè se tu stai paradossalmente 15 anni loro ti faranno pagare sempre di più perché capiscono che praticamente tu puoi essere spennato no praticamente ma se tu dovessi uscire e rientrare magari l'anno dopo dopo due anni nella stessa assicurazione praticamente paghi la metà della metà quindi per me onestamente è una cosa più che scorretta basta detto ciò allora mi sono dilettato e a chiedere in giro insomma a capire un po e a cercare una nuova assicurazione che non costasse troppo ma che mi desse comunque dei servizi e alcune le ho escluse subito ad esempio quelle che non avevano la protezione satellitare io le ho automaticamente escluse perché secondo me è una cosa abbastanza importante dopo di che dopo aver fatto questo primo filtraggio sono andato un po a capire a vedere le recensioni delle varie assicurazioni nel mio caso ho scelto poi alla fine dopo aver fatto tutto sto casino perché poi sai ci sono questi sette informativi di 70 80 90 pagine e tu te li devi andare a leggere tec non li legge nessuno ma io me li sono andati a leggere perché non aveva senso c'è non leggerlo le cose si devono sapere il valore del veicolo che viene dato varia d'assicurazione assicurazione massimali tante cose basta alla fine ho scelto la polizza con te e intanto che recensita molto bene che le persone si fanno molto bene e poi costa parecchio meno cioè io ho pagato praticamente 580 euro 580 euro sempre con la protezione satellitare sempre con i cristalli ma mettendo in più altre garanzie come ad esempio i danni al conducente ok quello che non ho messo è stato il furte incendio che sarebbe costato circa 60 euro in più perché poi in realtà mi è stato sconsigliato cioè qui dove abito io comunque fondamentalmente macchine non è che ne bruciano o non è che ne rubano dopodiché io la macchina la lascio in aria recintata video sorvegliato o chiusa eccetera eccetera quindi in realtà c'è una probabilità bassissima e niente basta la soluzione era quella quindi alla fine ho finito per pagare 580 euro anziché mille passa euro ok quindi non dico la metà ma quasi la metà per avere dei servizi in più cosa vuol dire questo non affidatevi a chi vi vuole propinare qualcosa perché costa meno perché paghi 50 euro in meno e allora no quello è sbagliatissimo andate a guardare a leggere io ci ho dedicato tantissime ora questa cosa quindi dedicateci tante ore per capire cosa è stata acquistando anche giustamente rivolgendosi a consulenti assicurativi perché è il loro lavoro però a parte quello uno una lettura bene gliela deve dare sempre più o meno per capire tutto e anche se uno magari non ha proprio le competenze tecniche però bene o male dico le cose sono spiegate e non fatevi fregare perché ci sono certe compagnie assicurative che non fanno altro che aumentare la polizzo ogni anno perché vedono che voi non la cambiate ok quindi mi ricorda la vecchia storia no del bulletto che chiede un euro no in giro per comprarsi il panino e se vede che poi quello l'euro glielo dà il giorno dopo te ne chiede un euro e 52 euro e sempre andando ad aumentare mi ricorda proprio questa storia e niente detto ciò al momento sono soddisfatto di questa assicurazione vedremo come va ma le recensioni sono positive 4 e 7 4 e 6 su 5 come stelle nella mia vecchia assicurazione erano tipo uno e qualcosa quindi in realtà dovrei trovarmi comunque un minimo meglio vedremo vedremo l'unico svantaggio e l'unica cosa che non mi piace molto che il carro attrezzi ce l'ho due volte l'anno invece con l'altra assicurazione ce l'avevo illimitato ma ho fatto un conto che più di due volte l'anno bene o male non mi serve quindi anzi neanche forse ci arriva due volte l'anno e anche mi dovesse servire una terza volta e dovessi pagarlo cash comunque risparmiare lo stesso e quindi a conti fatti in più ho i danni al conducente qualche altra garanzia quindi poi a conti fatti il risparmio c'è e si vede tutto detto ciò questo voleva essere più o meno un consiglio per capire come fare come muoversi e capire che c'è questo meccanismo sotto in molte compagnie assicurative non in tutte ma in qualcuna sì secondo me è una pratica sleale e non conviene perché tu acquisisci nuovi clienti che non sai come sono fondamentalmente che magari poi ti fanno l'incidente e quelli che sai che l'incidente non te lo fanno e quindi sono tutti i soldi guadagnati a quelli non te li tieni perché gli aumenti sempre la bolizza quindi in realtà dovremmo studiare dovrebbero studiare un po di marketing anche sotto questo punto di vista va bene detto ciò vi saluto vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana al prossimo video